Riberis oggi si è allenato con noi, ci ha avuto una settimana un po' particolare perché ha preso un colpo nella partita ultima giocata, quella con Napoli, quindi l'abbiamo gestito stasettimana, ha fatto dei lavori di recupero, ma stamattina si è allenato col gruppo, per cui siamo molto fiduciosi. Per noi è una partita importante come lo era quella con Napoli, come lo sarà quella con la Samp, come lo sarà quella col Cagliari, noi abbiamo necessità assoluta di fare e una bella prestazione e i punti anche, perché per le stesse cose che vi ho detto la settimana scorsa dobbiamo rimanere attaccati a un certo tipo di classifica perché vogliamo giocarci tutte quelle che sono le possibilità per mantenere la categoria e per mantenere la categoria ci sono anche queste partite che sulla carta possono diventare e sono tra virgolette proibitive, però poi abbiamo visto che la partita con Napoli ce la siamo giocata tranquillamente, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, ma credo che abbiamo fatto una buona partita che poi purtroppo non è andata come speravamo e come volevamo andasse. Però insomma abbiamo capito che certe partite ce le possiamo giocare se facciamo bene quello che abbiamo preparato magari durante la settimana nei dettagli e nella voglia di riempirla la partita con grande volontà, con grande spirito di abnegazione. Ma io credo che queste dinamiche possono aver creato dei problemi nella costruzione estiva di alcune situazioni della squadra e quant'altro. Ora che siamo dentro al discorso penso che non ci siano più motivi di disturbo, poi quando sarà vedremo come andrà a finire, forse più prima, non credo adesso. Ma mi sono fatto l'idea che è arrivato tardi, c'è una struttura importante, non ha fatto la preparazione e quindi sta pagando a mio avviso questo e sta pagando chiaramente anche qualche difficoltà della squadra, ci mancherebbe perché poi vanno messe insieme un po' di cose. Però insomma Simi, quello che ha fatto in passato non credo che si sia dimenticato come si fa, deve solo ritrovare un attimino di fiducia in se stesso, deve ritrovare un po' di condizione e a volte basta una scintilla che può cambiare poi completamente il trend di una stagione. Quindi bisogna avere fiducia nel ragazzo perché i numeri li hai citati tu poc'anzi e i numeri non si possono cancellare. I nostri tifosotti domani vengono un 6.000 a Roma, quindi tanto tifosotti non so, tutto gli si può dire tranne che tifosotti. Noi tra le altre cose, ne parlavo anche con qualcuno della squadra, siamo orgogliosi di difendere questi colori e di rappresentare questi tifosotti che ripeto che domani arriveranno in 6.000 a Roma. Non so quante tifoserie possono permettersi e vantarsi di portare 6.000 persone in trasferta a Roma piuttosto che. Quindi mi è dispiaciuto, nessuna polemica, volevo solo chiarire questi due concetti. La prima è del risultato, non è elegante entrare in merito nelle vittorie altrui, poi ha fatto anche dei paragoni Napoli con Salerno, secondo me il piccolo Arechi, ma quello neanche voglio considerare. Voglio puntualizzare queste due cose, noi a Venezia la partita ce la siamo sudata e l'abbiamo vinta senza l'aiuto di nessuno e i nostri insotti fosotti.